Sì, pareggio importante ma una prestazione secondo me molto più importante. Sotto due gol primo tempo, secondo me, squadra ha reagito alla grandissima, però nonostante tutto il primo tempo non si meritava. Loro due angoli, uno sul rimpallo e uno secondo me siamo un po' addormentati, però poi la prestazione anche primo tempo e secondo tempo, secondo me si è fatto una grandissima prestazione, secondo me una prestazione di livello sotto punti di vista su tutto. A livello di gioco, a livello fisico, mentale, siamo rimasti in partita, se che faccio un applauso sono orgoglioso di queste ragazze, dalla prima all'ultima, da chi è partito e da chi è entrato. Valutazione generale della partita? La valutazione, ti ripeto, secondo me è di essere un grandissimo punto di partenza dopo una prestazione così, abbiamo già incontrato Frosinone, Trastevere, Roma, siamo confrontati, c'è da lavorare, umili, lavorare bene durante la settimana e come dico sempre ogni domenica andiamo a cercare di fare bottino pieno.